Pagine di resistenza dedicata oggi la puntata alla marcia di Barbiana che si terrà nel comune di Vicchio il prossimo 18 maggio e ne parliamo con un testimone, un testimone autorevole dell'esperienza della scuola fondata da Don Lorenzo Midani ed Edoardo Martinelli che è tra le altre cose coautore della famosa lettera ad una professoressa. Allora Edoardo che cos'è la marcia di Barbiana, che caratteristiche ha e anche per così dire la necessità della attualizzazione di questo messaggio del priore? La marcia di Barbiana nacque in funzione di sostegno alla riforma berlinguer in uno spirito molto critico nel senso che si avvertì sul momento anche da parte del tessuto sociale, della scuola, degli insegnanti un calo di sensibilità, una riforma che doveva nascere dal basso rischiava o di essere calata in maniera diciamo arbitraria o addirittura come abbiamo visto avendo berlinguer un'opposizione addirittura interna, furono le stesse organizzazioni sindacali a metterlo in difficoltà. Quindi doveva essere un momento di riflessione dentro il quale la scuola avrebbe espresso delle criticità forti. Purtroppo negli ultimi anni è diventato quasi uno strumento autoreferenziale delle istituzioni, ha perso questa identità forte che in partenza gli avevamo dato noi perché era il gruppo storico della lettera ad una professoressa insieme a Iosa, a Nutini di Prato, no? Figure che in quel momento si erano fortemente dedicate a un dibattito aperto e democratico nel contesto scolastico. Io penso che se noi andiamo, saliamo e ci incontriamo con altri insegnanti si potrebbe dar vita a una rete di collaborazione, a quello che è il nostro progetto Barbiana 2040 e riprendere quindi quello spirito che dovrebbe trasformarsi in una vera e propria piattaforma rivendicativa perché, come si dice, oggi è proprio a rischio l'identità dei soggetti sociali. Cioè l'allievo è ormai solo indottrinato perché la didattica attiva non esiste più nella scuola altro che in quei contesti dove ci sono figure di dirigenti e di insegnanti che nel loro piccolo ancora agiscano con certe coerenze. Però in realtà abbiamo ormai una figura di insegnante completamente destrutturato da questo mondo di esperti. Io sottolineo soltanto la legge sui bisogni educativi speciali che di fatto hanno ingessato il loro processo educativo per cui anche la loro identità, dov'è la libertà di insegnamento? Mi domando. E poi dovrebbe essere anche un richiamo alle famiglie che dovrebbero capire che nell'epoca della tecnica lo strumento sta manipolando i giovani. Non è più uno strumento ma sta diventando il fine, l'ambiente dentro il quale ormai abitano. Allora senti, quest'anno sono previste discussioni particolari oppure è un momento di testimonianza utile comunque a tenere viva la sostanza, il messaggio di quell'esperienza? Beh, diciamo che la marcia è nata proprio nella spontaneità più totale, per cui ci doveva essere già sul percorso forme di aggregazioni, di ritrovo, che però non dovevano automaticamente trasformarsi in qualcosa di istituzionalizzato. Certo che poi all'arrivo c'è l'apertura del museo, per cui uno può visitare il contesto, rivivere l'ambiente nel quale noi siamo stati educati, saranno aperti tutti i laboratori, dalla falegnameria all'officina, allo studio fotografico, a tutto quello che diciamo era il patrimonio, il laboratorio massimo, dico io, della scuola di Barbiana, che sempre è relegato a, come si dice, a un contesto povero, però in realtà Barbiana già a quei tempi era un laboratorio significativo, nel senso che la buona scuola funziona quando gli insegnanti hanno gli strumenti appropriati. Allora, linea alla regia per la pausa pubblicitaria, ci troviamo subito dopo con la seconda parte di Pagine di Resistenza. Calabria News 24 Cronaca, politica, spettacolo, economia, attualità, sport, le notizie del giorno, ora dopo ora, 24 ore su 24. Scarica l'app per essere sempre aggiornato. Segui le notizie in tempo reale su www.calabrianews24.it Calabria News 24, se succede, noi ci siamo. Seconda parte di Pagine di Resistenza, dedicata ancora una volta all'esperienza di Barbiana. Nella prima parte abbiamo discusso della marcia di Barbiana che si terrà il 18 maggio a Vicchio, su In Toscana. In questa seconda parte del programma invece discutiamo con Edoardo Martinelli, che è allievo di Barbiana, coautore della lettera ad una professoressa, di questa iniziativa che ci sarà tra due giorni, il prossimo mercoledì, dedicata proprio a questo progetto Barbiana 2040. Come nasce questo progetto? Attraverso un seminario fondativo dedicato al concetto di ultimità in Don Tonino Bello. Insomma, sacerdote, vescovo, salentino impegnato nella costruzione di una pedagogia dell'inclusione sociale. Allora, Edoardo, intanto che cosa vuol dire ultimità? Ultimità come concetto, come ridare parola ai deboli, dignità. Cosa vuol dire ultimità in Don Tonino Bello e quali possono essere i punti d'incontro con l'esperienza vostra, insomma, di Barbiana, con il pensiero di Don Milani? Beh, intanto un elemento forte che accomuna queste due grandi figure del secolo scorso e significativa è il concetto di parola. Cioè la parola che non è uno strumento d'uso e di potere, ma è parola viva in quanto capace di narrare storie. Richiamo l'espressione della lettera ad una professoressa per capire di più il concetto. La lingua la fanno i poveri, i ricchi la cristallizzano per sfottere chi non parla come loro. Cioè per Don Tonino Bello, lo possiamo verificare anche nel materiale che troviamo su internet, quando lui o educa o fa interventi o comunica direttamente con la gente, noi vediamo che questa parola si fa dialogo, cioè è ascolto, è reciprocità, è il contrario di quello che normalmente si fa nelle chiese e nelle scuole, cioè che molto spesso sono prediche o sono lezioni frontali. Cioè è importante ricordare che Don Milani non ha mai fatto una lezione frontale. e quindi cosa facevano nella loro attività pratica? Dialogavano con la gente, coglievano quelli che erano i loro bisogni essenziali e non quelli perversi della società dei consumi indotti, diciamo, da questi media sempre più aggressivi e li trasformavano in riflessioni in cui, diciamo, l'emarginato, l'oppresso, l'analfabeta aveva il diritto di parola e quindi è anche un linguaggio che non è un ambiente rigido nel quale abitiamo, che oggi considerando le nuove tecnologie, sto pensando al loop del cellulare che sta schiavizzando i nostri giovani, no? Questo aspetto della parola non codificata, della parola viva nel tempo, nel cercare i significati e i valori rincorrendo le etimologie, no? Come sempre hanno fatto loro e con uno sguardo però al futuro, perché, come si dice, quando alla parola diamo un termine e la codifichiamo, di fatto spengiamo la dialettica, cioè impediamo quel processo educativo che ci libera dal rischio e che lo strumento diventi il fine della nostra esistenza. Allora, un'ultima domanda. Quanto, in un paio di minuti Massimo, quanto può essere oggi attuale ricostruire l'idea della relazione a partire dalla voce degli ultimi, dei deboli? Ma guarda, anche il nostro progetto, che si sta congiungendo a una rete di scuole, ha fatto uso di una ricerca conoscitiva che sta mettendo a fuoco un quadro estremamente preoccupante, no? Non solo abbiamo un calo di cultura che confermerebbe i dati statistici della ricerca sull'analfabetismo di ritorno di Tullio De Mauro, ma emergano anche degli aspetti che si legano più all'emotività e alle socialità. Cioè, da questi primi dati emergerebbe che i bambini, già nella scuola materna, nella scuola dell'infanzia, dormono pochissimo perché vengano affidate a queste tate display, dove poi, diciamo, rassicurati dallo schermo, li dimentichiamo. Quindi non c'è più quella capacità di memorizzazione, e quindi mancando la capacità di memorizzazione si riduce ancora di più nel tempo le capacità cognitive. Ma l'aspetto più destrutturante è che i bambini non hanno più spazi di socialità. L'unico spazio rimasto significativo veramente è il tempo che passano a scuola. È ovvio che se questo tempo non si riconduce a un gruppo classe che si ritrova in cerchio, che parla anche dei propri problemi, che lega la didattica, diciamo, ai contesti di realtà che vivono. E se l'educatore non è capace di instaurare quel processo educativo caro a Don Milani e a Tonino Bello, per cui la didattica viene veicolata da quelli che sono gli elementi motivanti, è ovvio che l'astrattismo della scuola diventerà un utile strumento per una tecnica devastante che prenderà prima o poi il sopravvento dentro anche il processo educativo e la vita sociale di tutti i giovani. Allora chiudiamo, vi aspettiamo mercoledì 8 maggio alle ore 9.30 nella sala A dell'Aula Magna per la presentazione del progetto Barbiana 2020.